alessandra celentano offre al pubblico di amici di maria de filippi un nuovo momento su cui riflettere che vede protagonista simone il ballerino di emmanuel lo riceve un compito da parte della storica insegnante che non gli riserva dei complimenti anzi la professoressa crede che simone debba migliorare anche dal punto fisico oltre che sulla tecnica ma questo è un argomento che fa già soffrire il 18 n che scoppia a piangere sulla scalinata della casetta il fatto che io non abbia linee che non abbia un collo del piede e che non sappia fare 10.000 giri è vero ma la danza per me non è solo quello magari posso risultare un po presuntuoso non penso che io non possa ballare perché sono scricciolino a 18 anni vivere in una società dove per quasi tutto l'estetica è fondamentale a quanto pare vedere ragazzini di 14 o 16 il triplo più alti di te più muscolosi di te e poi ti fai il q asterisco nelle sale ma ti vengono a dire che non puoi fare questo sono già propenso a fare il compito verrò massacrato lo so ma va bene così gaia che prima di lui ha dovuto affrontare un compito della celentano riuscendo a sorprenderla ricorda simone i consigli che lui gli aveva dato la ballerina è convinta che il collega ce la possa fare a questo punto tocca scoprire la coreografia richiesta da alessandra il filmato sconvolge un po simone ad amici che sembra fare un passo indietro il ragazzo infatti vuole prima parlarne con emmanuel lo in quanto la coreografia a lui e ai suoi compagni appare abbastanza complicata da eseguire simone raggiunge in sala prove emmanuel lo il giovane ballerino ammette che l'argomento fisico lo tocca abbastanza per quanto possa fingere di accettarsi non riesce più di tanto a farlo anzi quando si guarda allo specchio dice ok ma confrontandosi ad esempio con emmanuel lo si demoralizza ma ecco che il professore si lascia andare a un discorso esemplare che viene apprezzato il pubblico con dolcezza il famoso ballerino riesce a dare una spinta a simone per trovare la giusta carica per andare avanti e buttarsi in questa prova a